Salve a tutti, sono Andrea Bruno, un caloroso saluto a tutti da parte mia sto realizzando questo video per mostrarvi quelle che sono le peculiarità di .NET CMS un content management system che ha delle caratteristiche particolari, molto avanzate che hanno fatto sì da quando questo content management system è stato reso disponibile online gratuitamente open source sulla Windows Web Application Gallery è divenuto uno dei content management system più utilizzati in assoluto innanzitutto voglio parlarvi delle peculiarità che caratterizzano questo content management system però senza entrare all'interno dei vari pannelli di controllo non andiamo a vedere il content management system dal punto di vista del webmaster come prima cosa c'è da dire che il content management system permette con una sola installazione la messa online di infiniti siti internet essendo una sola istanza del programma a girare la memoria utilizzata indipendentemente da quanti siti andrà a gestire il content management system sarà sempre quella e anche le risorse saranno sempre limitate a un'istanza dell'applicazione questo fa sì che utilizzare questo content management system permetterà anche di creare un network di siti internet utilizzando un solo servizio di hosting nel mio caso io ho una settantina di siti internet tutti gestiti con la stessa installazione ed è questo che vi farò vedere vi farò vedere alcuni dei miei siti internet giusto per mostrare quelle che sono le caratteristiche del content management system questo sito internet che stiamo vedendo ora si chiama .net CMS ed è il sito ufficiale del content management system questo è il mio sito uno dei miei siti principali non è quello che ha più visite come potete vedere il sito al forum perché il content management system al forum ha un suo forum proprietario andiamo a vedere come è fatto il forum il forum può essere diviso in categorie per cui abbiamo categorie e anche sotto categorie più o meno la rappresentazione classica del forum meno da questo fino qua è uguale a quella di tantissimi forum qui abbiamo la differenza che nella parte sotto abbiamo le categorie con una preview di ogni topic aperto nel forum abbiamo la preview dell'ultimo messaggio e abbiamo i tre ultimi messaggi scritti in ogni categoria chiaramente questo è tutto configurabile possiamo scegliere se vederne di più o di meno qui dentro di preview noi possiamo andare anche ad aprire la singola categoria in questo caso avremo solamente i topic all'interno della singola categoria possiamo anche andare ad aprire il singolo topic ok allora vi parlo un po' del forum del content management system questo è un forum molto particolare perché il sistema di amministrazione del forum avviene secondo delle regole democratiche ovvero gli iscritti al forum possono ricevere ed esprimere un loro voto di preferenza gli utenti che ricevono più voti positivi di preferenza in automatico ricevono anche delle stellette queste sono le stellette che possono ricevere gli utenti in base al numero delle stellette ricevute questi utenti acquisiscono anche un potere di moderazione ovvero in questo content management system non è detto che i moderatori vengano imposti dalla direzione del forum via un sistema di autogestione in cui gli utenti esprimendo un voto di preferenza vanno a stabilire chi saranno i moderatori il moderatore ovvero chi ha ottenuto le stellette in base al voto di preferenza degli altri ha la possibilità di intervenire bloccando gli utenti disturbatori oppure chi fa spam hanno la possibilità di intervenire anche effettuando delle censure però il loro intervento non è diciamo un singolo utente moderatore non riesce a sortire nessun tipo di intervento perché per effettuare un intervento di moderazione è necessario un quorum un quorum equivalente a un tot numero di stellette per esempio 7 questo valore è impostabile cosa vuol dire 7 stellette? vuol dire che per moderare un messaggio per esempio in un forum occorrono utenti che intervengono a raggiungere il numero di 7 stellette per esempio un utente che ha 5 stellette chiede la moderazione interviene un altro utente che ha 3 stellette e chiede la moderazione ovvero la censura di un determinato topic 5 più 3 fa 8 ok la censura passa altrimenti non passa questo è un sistema democratico però fa anche sì che non vi è all'interno del forum un singolo utente che ha potere assoluto da solo di andare a intervenire con la censura oppure con il blocco o il ban di altri utenti ecco questo è un sistema democratico che ho sperimentato io nei miei siti è un sistema molto efficace è anche un sistema che fa sì che i moderatori vengano scelti per merito ok andiamo a parlare di altri aspetti del content management system per fare questo mi sposto all'home page del sito una caratteristica molto importante del content management system che è interamente fluid sicuramente webmaster oppure chi grafici sapranno che cos'è fluid ed è anche rispetta completamente i canoni del responsive web design che cos'è il responsive web design vuol dire che la grafica del content management system indipendentemente dal template si adatta perfettamente al dispositivo che sta navigando il sito se io dovesse accedere al sito internet creato con il cms da un telefonino cellulare per esempio un telefonino android o da un iphone oppure da un tablet la pagina verrà visualizzata con caratteristiche grafiche pari a un'applicazione nativa per quel cellulare ovvero la pagina non sforerà al di fuori del display del cellulare rimarrà sempre contenuta all'interno del display del cellulare e verrà renderizzata con le dimensioni ottimali per il dispositivo che la sta visualizzando questa è una caratteristica molto particolare insieme alla caratteristica di essere fluid perché fa sì che il content management system possa essere visto in maniera ottimale sia su display piccolissimi come quello di un telefono cellulare come anche su display a 50 pollici per esempio un televisore a 50 pollici potrà comunque visualizzare i siti internet realizzati con questo content management system in maniera ottimale oppure se noi andiamo a rimpicciolire e ingrandire il browser non succederà che i messaggi sforino dal content management system non succede anche che sul lato sinistro e destro abbiamo i classici due centimetri di margine di bordo dei content management system che non hanno una grafica fluid oppure al posto che avere il bordo il sito non riesce a essere contenuto nella pagina perché le misure sono fisse e la grafica non rispetta le dimensioni del browser per farvi proprio vedere anche con un esempio io posso anche andare a creare un ingrandimento ingrandisco quanto voglio però come vedete i bottoncini non è che escono al di fuori dello schermo al massimo vanno a capo in automatico si disposizionano andando a capo automaticamente ecco ovvero la grafica del content management ed è così in qualsiasi aspetto del sito anche se noi entriamo per esempio qui nel forum vado a cambiare l'ingrandimento addirittura anche il video si ridimensiona automaticamente in base alla risoluzione grafica che stiamo visualizzando questa è una caratteristica molto pregiata a questo punto vado a rimettere l'ingrandimento al 100% ecco è una caratteristica molto particolare e fa sì che questo content management system abbia una caratteristica fondamentale per i giorni d'ostri perché perché un sito web che non rispecchia il responsive web design provoca la fuoriuscita dal sito internet di tutti quegli utenti che accedono e non riescono a visualizzare correttamente il sito internet per esempio se un utente accede con un telefono cellulare su un sito che non è graficamente ottimizzato per quel dispositivo quello sicuramente nel 99% dei casi dopo 10 secondi esce da quel sito lì e va a cercare un altro sito o va a visionare un altro risultato del motore di ricerca per cui un sito web con il responsive web web design avrà dati statistici di navigazione dell'utenza migliore rispetto ad altri non vi saranno vi sarà ovvero vi sarà comunque un numero di utenti che abbandona il sito dopo pochi secondi però questo dato statistico sarà sicuramente migliore rispetto a siti internet che non adottano questa tecnica andiamo a vedere altre caratteristiche del content management system per esempio il content management system può avere dei foto album ok e adesso chiudo questo sito qua andiamo a vedere altri siti internet creati con la stessa installazione del content management ecco questo per esempio è il mio sito internet su wordpress il sito internet su wordpress presenta diversi articoli ha un suo forum un suo forum diviso per argomenti come vedete il template non è lo stesso dell'altro sito che vi ho visto prima però è sempre la stessa installazione del content management system a far funzionare questo sito internet qua una caratteristica molto importante del content management system è la sua velocità di rendere la sua velocità di esecuzione questo sito c'è il content management system non utilizza il sistema arcaico delle query query su un altro computer sul server del database poi deve aspettare il tempo di latenza della risposta prendere il dato rispedirlo al browser e alla fin fine tutto questo processo causa diverse millisecondi di latenza il sito non è realmente reattivo non girerà mai in maniera fluida un sistema moderno per ottenere siti velocissimi siti che sono veramente reattivi alla navigazione è quello di lavorare interamente ad oggetti tenere oggetti vivi tenere i loro indici oppure tenerli vivi in una cache RAM e solamente in questo modo si otterranno dei siti internet che sono realmente veloci e affidabili perché un sito creato ad oggetti che rimane vivo nella RAM ha una velocità estremamente superiore a un sito che ancora lavora col sistema arcaico della query al database questo content management system lavora interamente ad oggetti al forum che al suo interno viaggia ad oggetti e ha un suo algoritmo di cache potentissimo particolare il content management system è stato realizzato usando il framework di casa microsoft 4.0 l'ultimo l'ultimo al suo interno anche degli algoritmi di cache molto avanzati però io ho preferito riscrivermi degli algoritmi di cache che surclassano tutti gli algoritmi di cache del framework io ho implementato in questo content management system degli algoritmi di cache che sono realmente effettivi in automatico con un sistema intelligente tengono in cache gli oggetti che sono realmente più utilizzati liberando la memoria da quelli che sono meno utilizzati con un sistema a rotazione è un algoritmo di cache che surclassa qualsiasi altro algoritmo poi la cache tenendo in RAM gli oggetti vivi non accadrà mai che vi sarà una differenza tra la pagina web e il contenuto sull'host del sito internet perché la maggior parte degli algoritmi di cache non tiene oggetti vivi nella cache tiene una mera copia in formato di testo di una pagina del sito di parte del contenuto questa pagina se viene modificata da un altro utente avviene un avvenimento per esempio un utente si slogga e la sua viene in informazione che quell'utente non è più l'eclisi con un algoritmo di cache classica questa informazione ha bisogno di un tot numero di tempo ovvero quando la cache scade di aggiornarsi nella maggior parte dei casi avviene questo per cui capita spesso di avere qualche minuto di differenza rispetto a quello che è il sito e quello che viene renderizzato nel browser non abbiamo con i stemmi di cache tradizionale vi è anche questo problema ecco il mio algoritmo di cache visualizzerà sempre la pagina aggiornata all'ultimo millisecondo quello che è avvenuto in quel sito internet lì verrà esposto al browser sempre aggiornato all'ultimo istante ok tra le caratteristiche del content management system vi è anche la possibilità di creare dei menu gli articoli che noi andiamo a mettere nel content management system sono collocati in un menu questo menu è a più livelli abbiamo il livello 1 che è la voce principale in questo caso per questo esempio web poi possiamo avere dei sottolivelli per esempio installazione locazione è un sottolivello di installazione e configurazione noi possiamo andare qui dentro abbiamo praticamente la possibilità di dividere il sito internet a livello gerarchico possiamo creare un livello principale e poi un articolo andarlo a collocarlo a livello gerarchico sotto l'articolo principale una cosa molto interessante del content management system una cosa veramente molto interessante è che quando noi andiamo a scrivere un articolo su uno dei nostri siti internet possiamo associare a questi delle parole o delle frasi correlate cosa vuol dire tutto ciò vuol dire che verranno create delle parole o frasi che in automatico vengono associate ad un articolo e quando qualora all'interno di una pagina in una pagina web oppure nel forum oppure in un commento di un utente si riscontrasse questa parola questa parola diviene automaticamente un link che porta a quell'articolo all'articolo che tratta quello che definisce quella parola con un esempio vedete qua che ci sono delle parole che sono in realtà sono dei link se io clicco su host cosa succede in automatico dal sito di wordpress vado a finire in un altro sito un altro mio sito creato con la stessa installazione del content management system dove ho parlato di che cos'è l'hosting in automatico praticamente in qualsiasi sito della mia costellazione di sit internet apparisse la parola host in questa parola diviene un automatico un link che porta alla pagina che tratta questo argomento questa è una funzione molto interessante perché questo lavoro è vero può essere fatto manualmente a posteriori però diventa molto difficile da praticare quando uno ha tantissimi argomenti tantissime pagine e poi è anche difficile da mantenere e da gestire questo algoritmo lavora in maniera dinamica io ovvero in qualsiasi momento posso creare delle pagine nv internet che trattano argomenti specifici associare a questi argomenti le parole correlate in automaticamente da quel momento in avanti tutti i miei siti della mia costellazione di siti internet che avranno al loro interno quella parola quella parola diventerà un link che porta la pagina che tratta l'argomento andiamo avanti con vedere le funzionalità di questo content management system in questo caso io ho un sito per webmaster il sito per webmaster è diviso in argomenti e ha al suo interno diversi forum con il content management system possiamo creare un forum singolo oppure anche più forum eppure oppure andare a creare un sito internet che ha forum presi da altri siti internet sempre creati con la stessa installazione del content management system prima eravamo sul sito internet che parla di wordpress questo qui è un sito internet che parla di webmaster però al suo interno ha anche il forum ha tanti forum però ha anche il forum che abbiamo visto sull'altro sito di prima del forum del sito che parla di wordpress in questo caso eccolo qua questo è il forum del sito che parla di wordpress il sito si chiama wordpress italia se noi andiamo a vedere il sito dove ero prima ho lo stesso forum chiaramente il template è differente però i contenuti sono esattamente gli stessi e adesso giusto come prova mi metto qua come potete vedere il primo articolo sotto questa sotto categoria del forum installazione multiple mavp diversi se io torno sul sito di prima vi farò vedere che abbiamo la stessa sotto categoria e lo stesso articolo ecco come potete vedere abbiamo lo stesso articolo perché? perché questo forum è inglobato anche nell'altro sito internet nella mia costellazione di siti internet ogni utente può utilizzare lo stesso account per loggarsi in qualsiasi dei miei siti web andiamo avanti con vedere quelle che sono le peculiarità del content management system andiamo a vedere un altro sito internet per fare ciò andiamo a vedere un altro sito internet questo è un altro sito internet sempre che gira con la medesima installazione del content management system con la stessa istanza di programma questo è un sito che parla di russia una caratteristica importante del content management system che non ha nessuno che alle immagini internet vengono assegnati gli attributi ETSIF vengono assegnati gli attributi ETSIF per dare la descrizione all'immagine questa è una funzione SEO molto importante non ha nessun altro content management system utilizzando gli attributi ETSIF come potete vedere viene assegnato anche il copyright dell'immagine ovvero viene assegnata all'immagine come copyright il sito internet una caratteristica sempre del content management system è che è un content management system multilingua ovvero mi permette di creare siti internet con più lingue è una caratteristica molto particolare e mi permette di creare anche siti permette di creare siti su domini differenti in lingue differenti e sotto siti all'interno dello stesso sito con una lingua differente abbiamo anche il foto album possiamo adesso vi faccio vedere giusto come esempio il foto album di questo sito internet qua il foto album ha una struttura ad albero adesso noi siamo nella root di questo foto album qua però abbiamo noi ci troviamo qui dentro nella root però abbiamo diviso il foto album in sotto categorie in questo caso abbiamo per esempio la cartella personaggi prendo la cartella personaggi abbiamo diversi personaggi che sono concernenti con la russia tra i vari personaggi abbiamo per esempio pietro il grande così vi faccio vedere come funziona poi possiamo listare le foto in avanti in questo modo qua suvoro questo sono io e a questo punto vista questa funzione ritorniamo nella home di questo sito internet anche questo sito internet è completamente fluid come tutto il contenuto messo online con questo content management system ecco in questo caso io ho ridimensionato il browser è più piccolo però come potete vedere il contenuto non sfora ma anche il video si è ridimensionato nella maniera più opportuna per questa visualizzazione grafica qua una delle peculiarità che caratterizzano questo content management system è anche la possibilità di andare ad inserire delle sorgenti dei feed rss per le news in questo caso cosa occorrerà fare con il content management system basta andare a inserire le sorgenti rss per esempio google news mette a disposizione degli rss anche per tema in automatico il content management system utilizzando il feed rss arriva la sorgente ma non estrapola esclusivamente il contenuto parziale che viene distribuito nel feed estrapola tutto il corpo dell'articolo del feed per intero e poi in questo caso per esempio abbiamo delle notizie di agenzia e va a sostituire il testo le parole contenute nel testo con dei sinonimi affinché il motore di ricerca non annoveri il sito internet come sito che copia i contenuti ovvero il content management system va ad attingere tramite rss a fonti di news esterne estrapola il testo e va a sostituire le parole contenute in questo testo con dei sinonimi in modo che l'articolo non risulta più uguale identico ad un altro articolo pubblicato nel network questa è una funzione molto interessante e ci permette di mettere online dei siti internet che vanno ad attingere automaticamente da sorgenti di notizie esterne ok ragazzi per oggi è tutto vi ho dato una panoramica abbastanza completa in questo modo voi avete avuto modo di apprezzare quelle che sono le qualità di questo content management system per oggi finisco qua però voglio aggiungere ancora alcune caratteristiche salienti importantissime al giorno ad oggi per un sito internet caratteristiche che non possono mancare a nessun content management system purtroppo queste caratteristiche mancano per questo questo è divenuto da subito come l'ho messo freeware online uno dei content management system più utilizzati la caratteristica che non può mancare a nessun content management system adesso la più importante è la sintassi di pagina in htlm5 questo content management system è interamente scritto ad oggetti e gli oggetti renderizzano codice htlm5 valido questo sito è interamente scritto in htlm5 includendo tutte le nuove caratteristiche più avanzate di questo strumento potentissimo di definizione web un'altra caratteristica molto particolare e qui proprio sfido chiunque che questo sito internet crea pagine in formato xhtlm molti diranno ma come ma ci ha detto 5 minuti fa che il codice htlm5 avanzato l'ultimo ritrovato all'avanguardia adesso ci dice che è xhtlm cioè deciditi o è una ecco la caratteristica proprio particolare di questo content management system che il codice è che sia htlm5 ma nell'ambito dell'htlm5 rispetta appieno i requisiti dell'xml per cui abbiamo un sito che è xhtlm5 ovvero ha tutte le funzionalità della semantica è un codice htlm5 validato al 100% ma è nel contempo anche un codice di pagina di pagina xml per cui abbiamo un sito internet realizzato con questo content management system che aspetta tutti e due canoni i canoni dell'htlm5 e i canoni avanzati dello standard xml ecco questa è una peculiarità che probabilmente non troverete e non creerà mai nessuno nessun altro content management system un'altra caratteristica fondamentale che non può mancare a nessun altro content management system è l'implementazione dei microdata l'implementazione dei microdata secondo i canoni dettati da schema.org sito di proprietà di google che definisce come deve essere la semantica di pagina affinché venga meglio compresa dal motore di ricerca i siti internet realizzati con questo content management system hanno tutti la semantica di pagina avanzata secondo i canoni dettati da schema.org sito di google per cui sono SEO compatibili e hanno funzioni di SEO avanzatissime a parte la schemantica di pagina il mio content management ha realmente delle funzioni SEO che voi non riscontrerete in nessun altro sito internet a tal fine ho realizzato anche un sito web che parla di funzioni SEO avanzate sono funzioni SEO che non vi spiego in questa sede qua però il mio content management system ha delle funzioni SEO realmente super qui diciamo non siamo lì fermi al giochetto di mettere il grassetto ingrandire questo e evidenziare la pagina questo content management system ha veramente delle funzioni SEO avanzate che permettono di migliorare il dato statistico di navigazione dell'utente all'interno del vostro sito quindi per google il vostro sito viene apprezzato dall'utenza e automaticamente viene anche fatto salire nella SERP perché è molto importante che il content management system fornisca delle funzioni SEO atte a migliorare i dati statistici concernenti i tempi di navigazione dell'utenza all'interno del vostro sito internet tra le caratteristiche del content management system si annoverano peculiarità veramente importanti come per esempio il fatto che il content management system generi dinamicamente diversi contenuti come per esempio i feed RSS sia quelli inerenti le pagine oppure i singoli topic del forum oppure l'RSS generale del forum è generato dinamicamente ovvero non risiede sul server ma viene inviato al browser e generato per lì sul momento ogni qual volta il browser oppure un dispositivo lo va a leggere lo stesso vale anche per la copia in formato pdf di tutti i contenuti tutti i contenuti inseriti in questo content management system dalle foto ai commenti ai messaggi nel forum alle pagine hanno una loro replica in formato pdf un'opzione attivabile o meno la replica in formato pdf viene generata in maniera dinamica ogni qual volta il dispositivo la va a leggere ovvero non occupa spazio sul server con un esempio basta che mi porto su una pagina ecco qui abbiamo una pagina di questo sito che parla di cos'è l'encoding come vedete sotto ho il bottoncino cliccando sul bottoncino mi si apre la versione in formato pdf la versione in formato pdf di quel contenuto con un link che porta alla pagina originale in formato htlm anche la sitemap del content management ovvero le sitemap perché sono più di una per ogni sito internet gestito dal content management system vi sono due sitemap una per le immagini una per i contenuti sono create in maniera dinamica non esistono sul server ogni qual volta un dispositivo la va a leggere lui gliela crea lì per lì sul momento al giornata all'istante e gliela invia ok ragazzi per oggi è tutto un caro saluto a tutti da parte mia e noi ci vediamo alla prossima un caro saluto 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 grazie a tutti a tutti